Ciao a tutti, rieccoci! Come ormai sapete, domenica 14 dicembre alle 16, al Teatro Volta di Pavia, festeggeremo con voi il Natale insieme ai nostri amici di Reggae Motion. Il concerto è un tributo alla musica reggae e a Bob Marley. Diceva Marley, è la notte la vera musica che sento, le rane, i grilli, i suoni della natura. La musica è il canto della terra. E poi ci saranno le storie di tanti dei nostri animali che ospitiamo a Cascina Quadrifoglio. Uno di questi, il famosissimo Billy. Lo avete visto anche protagonista sulla nostra pagina Facebook, perché è impegnato insieme ai nostri volontari in una grande attività di promozione del concerto. E quindi, che state aspettando? Gli ingressi che restano sono ancora pochissimi. Il concerto è aperto sia agli adulti che ai bambini. E potete chiamarci ai nostri numeri dedicati o scriverci alla mail che compare qui nel video.